Luca, facci un sorriso. Sì, sì, è stata una bella vittoria. Mi dispiace che in un contrasto di gioco si è fatto male con il Catania, mi dispiace un po', però ogni tanto succede anche queste cose. È stata una vittoria importante, una vittoria cercata, voluta e meritata. Sì, abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, però siamo stati squadra e l'importante oggi era vincere. Siamo riusciti, siamo stati bravi. Tu, tra l'altro, ritornavi in azione, avevi avuto qualche giorno di stop dovuto all'influenza, alla tua prestazione, come l'hai vista? Sì, ho faticato, fino a martedì ho avuto l'influenza, però oggi è stato contento. Oltre al gol, la vittoria di squadra mi è piaciuta. Un bel gol anche il tuo, decisivo. Sì, è stato decisivo. Come ho detto, sono contento, spero di rifare ancora la quale a fine campionata. E ai tifosi cosa gli vogliamo dire? Ringraziamo di averci sostenuto anche oggi e speriamo di continuare così. Grazie.